Scoperti 23 lavoratori in nero e 9 esercizi commerciali tra Noto, Avola e Rosolini e sanzione fino a 300.000 euro. A conclusione di un periodo di intensificazione dei controlli coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa nel settore del sommerso da lavoro, i militari della Compagnia di Noto durante l'estate e fino alla prima settimana di ottobre hanno effettuato decine di interventi scoprendo 23 lavoratori impiegati completamente in nero in 9 aziende situate nei comuni ad alta vocazione turistica di Noto, Avola e Rosolini. I finanzieri hanno prima svolto un'accurata osservazione dei luoghi di esercizio e delle attività commerciali poi avviando delle ispezioni mirate sul territorio hanno rilevato che nelle stesse 23 lavoratori erano privi di qualsivoglia contratto e quindi in assenza delle più elementari tutte le di sicurezza. A riguardo sono state avanzate richieste all'ispettorato territoriale del lavoro per la sospensione dell'attività imprenditoriale di quattro esercizi commerciali dove il numero di lavoratori regolari ha superato il 10% del totale del personale presente.